Nei prossimi cinque anni dovrebbe triplicare in Europa il numero delle persone che si collegano ad internet dal telefonino, merito di reti mobili più veloci e di cellulari ovviamente pensati per una connessione web semplificata. A favorire il cambiamento anche nuovi programmi di navigazione e piattaforme per scaricare i contenuti entriamo in questo mondo con il servizio di Francesco Di Mario. Lo provi e se ti piace lo acquisti. Per i videogame da telefonino è una formula nuova ad offrirla un'applicazione di nome Engage grazie alla quale si possono scaricare da internet tanti giochi di sport, strategia e abilità. Basta installare il programma sul proprio computer o cellulare. Per ora il sistema funziona solo con alcuni telefonini. I videogame costano tra i 6 e i 10 euro ma si possono anche noleggiare per 2 euro al giorno o 5 euro la settimana. Per chi ama socializzare Engage è pure una community di appassionati, possibile chattare e partecipare a tornei ed eventi. Il settore dei giochi per cellulari e palmari vale 10 miliardi di euro l'anno a livello mondiale, un mercato in crescita e legato alla diffusione dei collegamenti mobili veloci ad internet. Attualmente solo il 14% degli europei naviga sul web con il telefonino ma la cifra potrebbe raddoppiare in pochi anni grazie a tariffe fisse e apparecchi facili da usare come l'iPhone che negli Stati Uniti ha fatto schizzare all'insù le connessioni mobili. In arrivo anche piattaforme innovative per internet sul cellulare con icone intuitive che ci permettono di avere a portata di mano email, motori di ricerca, mappe e community. Insomma presto il telefonino potrebbe sostituire il computer diventando la nostra porta di accesso ad internet. Ovviamente in versione 2.0, cioè il web fatto anche dagli utenti.